Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, è stato individuato l'autore del video che riprendeva il pittore 53enne Francesco Sandrelli di origini cortonesi avvolto dalle fiamme lungo il grande raccordo anulare a Roma. Le ustioni dopo giorni di agonia ne avevano poi causato la morte. Sentiamo allora questo primo servizio di Chiara Sadotti. È stato identificato e denunciato l'autore del video sul grande raccordo anulare in cui si vede Francesco Sandrelli, il pittore di Cortona, avvolto dalle fiamme accanto alla sua auto incendiata. A permettere l'identificazione dell'uomo sarebbe stato un commento social sotto un articolo di giornale che trattava del caso poi cancellato, ma ormai era stato identificato. L'automobilista avrebbe ammesso le proprie responsabilità di fronte agli inquirenti. Adesso dovrà rispondere di omissione di soccorso. Francesco Sandrelli quel 6 febbraio si trovava a Roma sul grande raccordo anulare quando la sua macchina ha preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. Il 53enne era riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e scendere dall'auto, ma invece di essere aiutato è stato ripreso in video ed è riso. È morto dopo quasi due mesi di agonia in ospedale a causa delle gravissime usioni riportate. A chiedere giustizia erano stati soprattutto i familiari di Francesco Sandrelli, devastati dall'accaduto. Al funerale a più ripresa avevano chiesto che l'autore del video fosse identificato. Persone che si permettono di mandare, che non soccorrono chi è in una situazione disperata, non solo, la filmano e la mettono in rete. Io proprio penso che peggio di così non possa andare la situazione. Quindi spero vivamente che comunque vengano individuati i colpevoli e assegnate la giustizia. Nel prossimo servizio invece sentiamo il commento da parte del padre di Francesco Alberto Sandrelli ai nostri microfoni. Non si può ammettere una cosa di questo genere. Una persona anche se va a paura, in questi casi qui bisogna, e poi non deve fare quello che ha fatto. Tutto al più si può uno sottrarre perché è scioccato, ma poi prendere giro che si tolpa la morte. Siamo proprio in un mondo fuori dal mondo. A parlare Alberto Sandrelli, padre di Francesco, il 53enne, morto il 24 marzo in seguito alle gravi ferite riportate nel rogo della sua auto. Commenta così ai nostri microfoni il fatto che oggi la polizia sia riuscita ad identificare e denunciare l'uomo che aveva filmato la scena e poi l'aveva pubblicata sui social senza prestare soccorso a Francesco. Il padre chiede che la giustizia faccia il soccorso, ma preferisce parlare delle doti del figlio come artista e che venga ricordato proprio per questo. Aveva una grande sensibilità, però era ecologico, quindi amava le bestie, gli animali, le cose, le poesie molto raffinate. C'è anche dei libri con le poesie perché si era data anche la poesia e noi abbiamo una parete tutta trappettata di tutti gli attestati di queste mostre, addirittura anche dell'Ufro. Quindi è andato in Russia, è andato in America, è andato diciamo nelle Repubbliche Baltiche. E sulla vicenda interviene anche il Codacons d'Aspo a vita da tutti i social network nei confronti dell'autore del video poi pubblicato in rete appunto dell'agonia di Francesco Sandrelli. Questa la richiesta del coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori. Codacons chiede anche che vengano adottati i provvedimenti verso i responsabili della pagina Welcome to Favelas dove appunto le immagini erano state pubblicate. Schianto con l'auto ieri sera poco dopo le 22 lungo la regionale 71 all'altezza di Terontona nel comune di Cortona coinvolta una sola auto con a bordo 4 persone, un uomo di 30 anni, una donna di 25 e due bambine, entrambe trasferite al Meier in codice rosso. Presenti sul posto un'automedica della Fratta, della misericordia di Cortona e di Castiglione Fiorentino, i carabinieri e i vigili del fuoco. Come abbiamo già ricordato nel nostro telegiornale di ieri per le due mamme di Anghiari, famiglia omogenitoriale, è arrivato il sì all'adozione dei loro due gemelli da parte dei servizi sociali. Oggi ai nostri microfoni il loro avvocato, Chiara Sadotti. Finalmente abbiamo ottenuto la relazione dei servizi sociali nella quale si dice che le mamme stanno crescendo, i bambini che tra l'altro si avvicinano all'anno della nascita, li stanno crescendo in condizioni del tutto normali, quindi hanno la capacità di alternarsi nei rispettivi compiti, nelle attenzioni da dare ai bambini, nell'alternanza casa-lavoro e in più godono, direi, dell'appoggio delle rispettive famiglie. Questo è il primo ma fondamentale passo in avanti nella vicenda delle due mamme di Anghiari. Gli assistenti sociali che hanno preso in carico la richiesta di adozione avanzata da una delle due donne ha dato parere positivo. La difficoltà, ma devo dire c'è stata una maturità discreta insomma, è quella di dire, bene, devo passare da questa porta, necessariamente butterò giù anche l'esame che mi fanno come mamma, ancorché insomma io sia mamma da sempre. La vicenda era emersa nel giugno 2022 dopo la nascita dei figli della coppia, due gemelli. All'anagrafe però solo la mamma che li ha partoriti ha potuto riconoscerli. Qui diciamo che la pesantezza probabilmente viene percepita anche su un doppio livello, perché l'ha adottante, quindi quella che ha incaricato me di depositare il ricorso, è proprio la madre biologica. Era così iniziata la battaglia legale in tribunale ad Arezzo che si era conclusa con il parere negativo del collegio giudicante. È comprensibile la posizione del tribunale, nel senso che non siamo istituzionalmente incaricati di sopperire a quelle che sono le mancanze legislative, chiaramente si passa la palla al legislatore. Però tutto questo, se vogliamo, altro non è a contraris che la dimostrazione che quello che abbiamo sempre sostenuto sin dall'inizio sia questa voragine che abbiamo oggi allo Stato. E come succede diverse volte in Italia, occorre aggirare l'ostacolo. Adesso il percorso della coppia prosegue al tribunale dei minori. Io mi auro, me lo auro, chiaramente soprattutto per loro che si riesca a ottenere tempi ragionevoli l'udienza nella quale loro verranno personalmente ascoltati, se vogliamo anche per la prima volta. Ancora con il fiato sospeso i lavoratori della FIMER di Terronova Bracciolini, questa mattina è iniziato il presidio di fronte al tribunale di Arezzo, domani 28 aprile, è la cosiddetta deadline, giorno in cui appunto l'azienda dovrebbe scegliere una delle due offerte che è stata presentata. Sono giornate durissime, soprattutto siamo in preda alla confusione più completa. Dopo un anno in cui pensavamo di aver riguadagnato la stabilità. Ci aspettiamo che sicuramente chi può prendere delle decisioni le prenda una volta per tutte e ci tolga da questa situazione, da questo paradosso in cui siamo finiti. Un giorno di sciopero, due di presidio di fronte al tribunale di Arezzo, poi un altro tavolo convocato dalla regione. Nel mezzo la decisione che il CDA di FIMER di Terronova Bracciolini, da mesi inconcordato di continuità, dovrebbe prendere sul futuro dell'azienda. È importante essere qui perché noi vogliamo far capire che i lavoratori sono stanchi, esasperati, disperati, perché c'è lavoro, c'è portafoglio ordini clienti, c'è un problema che ormai è conosciuto, è quello che mancano le risorse per portare avanti l'attività industriale. Siamo a conoscenza che c'erano dei fondi, che entro il 31 di marzo, come era stato preventivamente chiesto il Consiglio di Amministrazione dovesse scegliere, quel Consiglio di Amministrazione ha scelto, quindi non si capisce perché ci sia ancora necessità di ulteriore tempo. È infatti il 28 aprile la data cerchiata in rosso sul calendario, entro la quale il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà esprimersi sulle due offerte arrivate sul tavolo. Una già formalizzata sarebbe quella di Greybull, fondo legato a McLaren, l'altra riguarderebbe il fondo Clementi, che si era già avvicinato a FIMER. Quello che noi vogliamo dire, la nostra istanza, è che non c'è più tempo. La finanza d'emergenza è stata sospesa, già ci preoccupiamo di se e come lavoreremo la prossima settimana. Quindi a oggi, un giorno o due giorni in più, per noi organizzazioni sindacali fanno la differenza e per i lavoratori anche, per cui già da domani noi ci aspettiamo delle notizie. 280 posti di lavoro a rischio senza contare l'indotto. Vorrebbe dire in questo momento storico dell'Italia, vorrebbe dire una tragedia, soprattutto per persone che hanno una certa età, che magari al tempo del 93, che ti ho detto prima, avevano la possibilità di trovare lavoro facilmente, adesso sarebbero difficilmente riposizionabili. Nel frattempo lo stabilimento, pian piano, si sta spegnendo. Noi ci siamo ridotti di oltre il 50% come maestranze e nonostante ci sia stata questa emorragia, parecchi ci hanno creduto fino alla fine. Tutte queste speranze in questo momento rischiano di essere disattese. Una volta persa la fiducia dei lavoratori, ovviamente tornerà a svuotarsi questa azienda e rischierà di rimanere come una realtà che non va da nessuna parte. E domani un altro presidio, sempre dei sindacati confederali, CGL Cislewil, di fronte all'ospedale San Donato di Arezzo alle 12. Una delle iniziative che abbiamo programmato scrivono a livello locale in vista del 6 maggio. Un capitolo della piattaforma sindacale è dedicato proprio alla sanità, settore che i sindacati ritengono in piena emergenza. La condizione sia dei medici che degli infermieri che degli operatori e dei cittadini che hanno bisogno non è più sostenibile necessario l'incremento del livello di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Oggi donati al reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale San Donato di Arezzo quattro monitor che verranno installati nelle quattro sale parto e saranno utilizzati per monitorare in tempo reale i parametri della partoriente e del nascituro. I monitor, spiega il DG d'Urzo, sono preziose apparecchiature che offriranno l'ulteriore assistenza in uno dei momenti più delicati della vita della donna. Ringraziamo il Rotary per questa attenzione. E oggi era anche giorno di consiglio comunale. L'adunanza ad Arezzo si è aperta con il ricordo della dirigente Cecilia Agostini recentemente scomparsa e con il minuto di raccoglimento sollecitato all'aula dall'assessore al personale Giovanna Carlettini durante il consiglio. Poi si è tornati a parlare del crollo nella scuola Margaritone nel quale è rimasto ferito un tredicenne a sollevare la questione il Partito Democratico. Rimane sotto sequestro l'aula crollata. La scuola media della Tricca ad Arezzo il 4 aprile scorso si era verificato il cedimento di una parte di controsoffitto. I calcinacci avevano provocato anche il ferimento lieve di un tredicenne. Questo è stato l'argomento di un'interrogazione del Partito Democratico oggi in consiglio comunale presentata dai consiglieri Alessandro Caneschi e Giovanni Donati che hanno chiesto quali interventi siano in programma per mettere il plesso in completa sicurezza. L'assessore ai lavori pubblici Alessandro Caneschi ha risposto che i controlli sono scattati in tutta la scuola subito dopo il crollo dunque attendiamo a detto casi di entrarvi per appurare compiutamente le ragioni del cedimento e comunque siccome il controsoffitto interessava il primo piano del plesso abbiamo deciso di monitorarlo interamente alleggerendone alcune porzioni. Oggi all'esame dell'aula anche il piano triennale delle opere pubbliche. Oggi abbiamo approvato la variazione che riguarda principalmente l'adeguamento normativo quindi con l'incremento del 10% in base a quella che è la revisione prezzi e soprattutto l'aumento di prezzi per tutte le opere che riguardano il PNRR in maggior parte e soprattutto riguardano il bando quella della rigenerazione urbana quindi ci sono circa 20 progetti in cui dovranno essere appaltati con la ditta incaricata entro il 30 di luglio. Con questa variazione noi di fatto diamo il via a quello che è l'iter per l'apertura dei bandi per l'assegnazione appunto per le imprese che poi realizzeranno i lavori. Noi abbiamo già in questo periodo effettuato le varie progettazioni in gran parte siamo già al progetto esecutivo siamo riusciti ad ottenere anche il parere positivo della soprintendenza per tutti quei progetti che riguardavano anche un parere appunto delle belle arti ricordo che sono interventi che riguardano appunto la mitigazione tra e soprattutto la rigenerazione degli spazi urbani tra centro storico e prima periferia. Gli interventi principali riguardano appunto Piazza Ciotto, Piazza Saione l'area esterna del Baldaccio alla Casa delle Energie con la riqualificazione del parcheggio dell'area verde la risistemazione delle mura Trento Trieste l'area esterna all'ex mercato ortofrutticolo con la sistemazione del parcheggio al posto dei locali che erano destinati a magazzino e a celle frigorifere. Ma oggi in Consiglio Comunale si è parlato anche del Consuntivo 2022 e soprattutto di un argomento che indubbiamente interessa tutti i cittadini anche perché parliamo di tasse ovvero le nuove aliquote di Imo e Tari. L'Imo e Tari è il centro del Consiglio Comunale ad illustrare in aula la riformulazione delle tariffe è stato l'assessore al bilancio Alberto Merelli. Il Consiglio Comunale andrà a deliberare le tariffe delle Tari che ricordo sono l'applicazione del piano economico finanziario che è un numero esogeno all'amministrazione comunale quindi è determinato non dal Comune e il Comune tramite l'applicazione della tariffa lo riversa nella contribuzione dei cittadini. L'aumento del PEF quest'anno è all'incirca del 2,26% quello che è stato l'intendimento dell'amministrazione è far sì che questo incremento sia spalmato in maniera equanime fra tutti i contribuenti quindi evitare che ci siano contribuenti che pagano molto di più e contribuenti che invece pagano di meno. Quindi la rimodulazione delle tariffe è stata necessaria per far sì che questo incremento sia anche oltre che essere un incremento medio sia anche quello che perciperà il singolo contribuente. Per quanto riguarda invece l'Imu rimangono le aliquote degli anni precedenti solo per una categoria e quindi quella che riguarda l'edificio adibiti ad ospizi a scuole e a servizi di questo genere con una riduzione allo 0,76% rispetto all'1,02% di prima. Presentato poi il bilancio consuntivo 2022. Quindi quello che è stato il risultato della gestione finanziaria del Comune e anche poi l'ultimo numero quello che è l'avanzo che per il Comune Arezzo quota 9 milioni di euro quindi un avanzo importante che servirà all'amministrazione per far fronte alle tante esigenze di spesa che già nel 2023 abbiamo e che sono già in corso. C'è anche un'ipotesi di utilizzo? Ecco, già in questa fase utilizziamo gran parte dell'avanzo vincolato e quindi quello che era la parte dell'avanzo del 2022 che aveva già una destinazione prevalentemente per la parte corrente sono tutti i servizi sociali, educativi, scolastici i contributi che abbiamo avuto per la digitalizzazione e per gli investimenti tutti i contributi che erano già stati acquisiti dall'amministrazione che sono destinati agli uffici per la spesa. Domani in programma il primo vero appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana nato per valorizzare il ruolo che i locali da sempre hanno nella costruzione di quel modello di ospitalità e accoglienza che ha reso l'Italia famosa in tutto il mondo ma non solo anche per ricordare l'importanza economica del comparto che in provincia di Arezzo conta mille oltre 1600 persone la giornata della ristorazione ha anche un cuore solidale Fipe Conf Commercio donerà un importante contributo economico a favore della Caritas italiana Parliamo adesso del weekend del primo maggio ci proiettiamo dunque a questa festività che per Casa Bruschi sarà particolare sentiamo perché nel prossimo servizio Un ponte del primo maggio speciale per la Casa Museo di Ivan Bruschi che fa parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio tre giorni di visite guidate gratuite offerte ai visitatori che decideranno di scoprire la Casa Museo Famiglie, giovani, turisti potranno essere seguiti dal racconto degli addetti museali e appassionarsi alla collezione del noto antiquario ma anche ammirare le mostre le banconote della Shoah storie di denaro nei campi di concentramento e la sottilità dell'aria Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari La partenza dei tour è prevista per le 16 e si concentreranno negli oggetti più inediti e capaci di stimolare curiosità intorno all'arte e all'antiquariato In occasione poi di foto antiquaria che si terrà il 30 aprile in Piazza Grande la Fondazione Ivan Bruschi invita tutti gli appassionati di fotografia a godere degli ambienti della Casa Museo degli oggetti della collezione Bruschi e degli scorci sul centro storico per cimentarsi in nuovi scatti suggestivi partecipando al contest primaverile scatti da collezione Le migliori foto verranno poi postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all'autore per portare a Rezzo il collezionismo e l'antiquariato in giro per l'Italia Castello dei Sorci è invece in programma un viaggio indietro nel tempo con la prima edizione del Celtic Festival la manifestazione è in programma da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio e vedrà il suggestivo maniero alle porte di Anghiari animarsi con un calendario ricco di iniziative a partecipazione gratuita rivolte a bambini ragazzi e adulti che farà affidamento sulla presenza di rievocatori storici artisti e artigiani provenienti dall'intera penisola e questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro telegiornale grazie per l'attenzione arrivederci grazie per l'attenzione